Questo è solamente il primo round, ovviamente la decisione che ha preso il TAR è solamente sulla richiesta di sospensiva e non quindi sul merito. Non si arrendono i familiari degli anziani che risiedono nella villa in zona Campoluce alle porte di Arezzo che da alcune settimane si trova al centro di una complicata vicenda giudiziaria. Il TAR della Toscana ha infatti rigettato la richiesta di sospensione dell'ordinanza di chiusura della residenza. Erano stati legali che rappresentano le due persone che si prendevano cura degli anziani nell'abitazione di Campoluce a presentare ricorso al TAR per chiedere l'annullamento dell'atto, firmato dal primo cittadino di Arezzo Alessandro Ghinelli e dal comandante della polizia municipale Augusto Cino Cecchini. Non c'è un'organizzazione, non ci sono delle persone che gestiscono questa struttura, è un'autogestione, sono persone anziane che sono capaci di intendere e di volere, che hanno fatto questa scelta e che anche per problemi di carattere economico, perché sappiamo tutti che per essere ospitati in un RSA, perché effettivamente ti danno anche dei servizi importanti, quindi nulla contro l'RSA, però i prezzi sono molto alti. Qui invece è una forma di auto-organizzazione che in Europa, queste forme di auto-organizzazione sono già nate e quindi siamo noi che forse siamo un po' arretrati. Per le famiglie degli anziani dunque si tratta di autogestione con affitto regolare della vila e assunzione debadanti ripartita tra le famiglie, per l'amministrazione invece si tratta di una RSA senza le dovute autorizzazioni. Io invito l'amministrazione, quindi il sindaco e anche l'assessore Tanti a venire a vedere come queste persone vengono trattate, questo è un aspetto di carattere burocratico, se questo può essere considerato un RSA oppure no. Per noi non lo è, ma le persone anziane non vengono trattate male, anche perché sennò la procura sarebbe già intervenuta in tempi molto più rapidi e soprattutto con interventi molto più cogenti. Continueranno a lottare i familiari? Ma questo io credo di sì, poi dopo vedremo fino a che punto.